E' il vero confetto proprio per la superiorità del mondo. Se ognuno svolge la propria funzione, la vittoria è solo. 5, 4, 3, 2, 2, 1. Un secondo largo, conquistate l'obgettivo. Salute. Grazie. Ricevuti. Suono! Grazie Imposizione Mi servono più rottami Farai il rapido Proteggete la mia torrella Venite a prendere l'armatura Armatura per voi Grazie compare Non è un obiettivo Che ne dite di darmi una mano? Venite uccisi Mi servono più rottami Qui c'è dell'armatura Grazie Grazie Mi servono più rottami Armatura Venite a prenderla Qui c'è dell'armatura Nerva questo Stiamo in una lezione Grazie Armatura per voi Che sono più rottami Mi servono più rottami Che mi ha salvezza Mi sono ricoperto Lavorando Armi Ah Venite a prendere l'armatura Armi Sono pronta a scatenare quale spesa Grazie Mi stanno riprendendo Armatura per voi Venite a prendermi Abbastanza rottato. Mi sono rottato. Forte in te! Stai fosfinita. Finisce dall'armatura! Finito di rottato. Hai la sua brava. È la natura! Staci! La morte non può fermare. Rottobomba pronta! Sono abbastanza rottato. Questo tornerà utile. Venite a prendere l'armatura! Non prendere l'attivo. Venite! Mi servono più rottami. Noi... Non sento. Non sento. Non sento. Faccire vedere cosa sai. Grazie. Grazie. Molto. Non sento. Non sento. Uccisione doppia Vittorio